Beni culturali e crisiastici, tutela e protezione tra presente e futuro. Tema centrale del ciclo di conferenze organizzato a livello regionale dall'Ufficio Nazionale per i beni culturali e crisiastici e le edilizie di culto della CEI, in collaborazione con il Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale. Primo appuntamento stamana alla Lamagna del Pontificio Seminario Regionale San Pio X di Chieti, alla presenza dell'Arcivescovo di Chietivasto, Monsignor Bruno Forte, dei massimi dirigenti e esperti di soprintendenza dei beni artistici e culturali e del MIBAC. L'incontro si è aperto con un momento estremamente significativo, la riconsegna al legittimo proprietario del prezioso spadino della Madonna Adolorata, rubato lo scorso maggio in una chiesa a Francavilla e ritrovato dopo breve tempo, grazie all'attività investigativa del Nucleo dei Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Ancona, in un comprooro di Rimini. Un'indagine fulminea sollecitata dal Comando di Stazione dei Carabinieri di Francavilla, guidato dal Capitano Antonio Solimini e portato a termine dagli uomini diretti, dal Tenente Colonnello Carmelo Grasso. Nell'occasione di un arresto di due persone che avevano colpito varie chiese, sia dell'Abruzzo che delle Marche, dell'Emilia Romagna e anche della Lombardia e del Piemonte. A seguito di questo arresto, in un comprooro, abbiamo trovato questo spadino riconducibile a Francavilla a Mare. Altra attività fondamentale da parte dell'Organo della Tutela Patrimonio Culturale, uno dei primi istituiti al mondo già nel 1969, quello relativo al recupero dei beni danneggiati dalle catastrofi naturali. E qui in Abruzzo ne sappiamo qualcosa, avendo subito nell'arco di circa sette anni ben due importanti eventi sismici. Importante da questo punto di vista anche il rapporto di collaborazione sinergia con le soprintendenze, le quali hanno contezza della situazione a livello regionale. L'Osaria Mencarelli, soprintendente Saba Pabruzzo, ne approfitta per fare il punto, sottolineando come in questa fase la vera emergenza non è tanto quella dei luoghi e dei beni danneggiati dal sisma del 2009, quanto quelli nella provincia di Teramo colpita dal sisma del 2016, per i quali i finanziamenti ci sono, ma sono ancora bloccati. Quello che la soprintendenza sta attuando di concerto con gli organismi ministeriali è il piano di recupero e di interventi, che non potranno essere tutti condotti ovviamente dalla soprintendenza, ma che dovremo valutare se condurre insieme alle curie, perché la situazione delle risorse, soprattutto umane, tecniche, delle soprintendenze è assai difficile.